Cari amici di Radio Portalecce, le puntate di Facciamo Scuola che radiamo nel web per questo periodo non potranno essere trasmesse. Perché anche noi preferiamo stare a casa, ma stiamo lavorando assiduamente per voi. La redazione di Le Cosimo sta rimanendo sul penso. Stiamo pensando alla nostra scuola, all'allarmante attualità, al cinema che vorremmo vedere, lo sport che è rimasto solo nella fantasia, all'oroscopo stellare. Vi aspettiamo molto presto con tante sorprese. Dal cuore del Salento al cuore degli studenti. Anche con le vignette in diretta. Tanta salute da Facciamo Scuola. Tanta salute da Facciamo Scuola.